Sono 36 le associazioni e i gruppi che hanno aderito finora alla manifestazione che si terrà il 6 dicembre a Battipaglia contro l'invasione dei rifiuti sul territorio. Una mobilitazione che si sta facendo strada sui social e che vuole provare a bissare quanto accadde nel 2017 quando a scendere in piazza furono in 10.000 per protestare contro i cattivi odori. Oggetto del contendere in questo caso i ritardi della provincia dopo la protesta di settembre a seguito della quale vi era stato l'impegno da parte di Palazzo Sant'Agostino a mettere in campo azioni per individuare i criteri di saturazione del territorio. Cosa che non è avvenuta nonostante i solleciti della stessa sindaca Cecilia Francese fino ad arrivare alla decisione dei comitati del NO ad organizzare una manifestazione di piazza.